giuro spero di averti ripreso perché poi questo qua finisce diretto esatto giuro faccio il fermo immagine come copertina nel video non so che partire in quinta non è non c'è nessuno c'è solo lì dentro un sentierino lì a metà non è che ti collega là con San Rocco dove riusciamo ad andare da sopra? eeeh, non so dove arrivi punti alle fiorine punti alle fiorine da lì azi va veni al dora noi v-am arrivato alla fiorine hai lì 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 è lì 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 Grazie a tutti. 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 Adesso andiamo. Dio che bello. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Le motocross possono. C'era scritto sul divieto limitato a motocross. Quindi il divieto arriva fino alle motocross e le motocross possono. Tutte le moto fino a quelle da cross possono. La mia da cross. 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 Buongiorno. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Buongiorno. 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 no questo è la storia che li facciamo ma riesco a scendere lì è un po' di scadino Buona giornata 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 Grazie a tutti. Ti prego, dimmi che va alla GoPro. Sì. Perché? Prego, è stato da riprendere. Hai fatto? Vieni. D'altronde si lavora e si fatica. Ti carica a te, mi ha male. Vai. E poi adesso viaggiano molto bene. Proviamo a farne un tocchellino. Vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. 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 Sì, sì, sì. Sì Rilassi guarda lì hai visto? eh? vai ma che ghiaccio po eh? qua finisce la protezione qui mi hai preso che bastardo avevo picchiato lo sticci dove? eh? tornate dietro appena lì non lo so non lo so Grazie a tutti. 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 Wow. E ora? E ora siamo a San Lucio. Bene, in dove? Come in dove? Cioè da che banda? Questa dipende di dove si vuole andare. Qua è sull'uso a San Lucio. La scendi a Fogarolo. Di qua scendi lì alla spessa. E' qua dovrebbe essere il sentiero dove stavano facendo i lavori da asfaltare. Ah, ok. Ok. Quindi tanto vorrebbe fare il giro dall'altra parte. Andiamo di là in Fogarolo? Quindi scendiamo alla strada magari. Sì. Dopo vediamo che ore si fanno. E anche dopo altri giri non riesci a farlo. No, ormai. A tre e mezza, cinque, ma ci fermiamo a vedere qualcosa di veloce dopo un vacca. Eh, dai, infatti. Eh, vedi, non è lunghissimo come giro. Eh, va bene, ma te abbiamo fatto un giro tranquillo. Oggi era da far tranquillo e tranquillo è stato. Sì, sì, infatti. Cioè, non era per noi, ma ormai ormai l'avevamo organizzata così. No? Andiamo in là dove c'è le persone là. Ah, aspetta. Sai che non l'ho mai accendita con la pedalina? Tala, che compressione. Eh? Ma che compressione che c'è questa? A tornare indietro. Sì, poi ho acceso una vita al TM, né? Con la pedalina. Però, dico, questa è la prima... Hai vissuto la prima accensione in diretta con la pedalina. Buongiorno. Buongiorno. Ma non è dove... no niente Sì, 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 infatti Questa qua la fare in su deve essere bella tanto La cosa con la fine Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 No, no, ho capito dove siamo, mi ricordo, memoria visiva. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.